Perentorio 3 a 0 della Turris è uno scontro diretto in chiave salvezza contro il Messina. I corallini partono subito all'attacco e trovano immediatamente il gol del vantaggio con Frascatore che dopo un'azione personale in area di rigore supera il portiere avversario Fumagalli per l'1 a 0. Non si fa attendere la risposta dei siciliani con Balde che però trova la presa sicura di Fasolino. Al ventunesimo Rizzo al volo tenta la conclusione ma Trasciani si oppone e devia in angolo. Poco dopo è Maniero con un rigore in movimento a calciare alto sopra la traversa. Gli ospiti ci provano con Ragusa ma anche l'attaccante del Messina non trova la porta da ottima posizione. La ripresa si apre con una grande occasione per Giannone che defilato calcia verso la porta Corallina centrando l'incredibile palo, Messina vicino al pareggio. A 10 minuti dalla fine errore di Ferrara in fase difensiva ne approfitta Longo che penetra in aria, serve al centro a 4 che impiazza il pallone alle spalle del portiere per il 2 a 0 della Turris facendo esplodere il Liguori. Nei minuti finali ancora Giannone prova il tiro dalla distanza ma Fasolino blocca in due tempi. Nel recupero Longo lanciato in contropiede da Zampa trafinge per la terza volta Fumagalli e mette il punto esclamativo sulla vittoria Corallina. Tre punti pesantissimi in chiave salvezza per la Turris che da ora ha nelle proprie mani il suo destino a partire già dal prossimo impegno in trasferta contro la Fidelisandria ultima in classifica per mantenere l'attuale posizione che significherebbe salvezza diretta.